Un fumetto per raccontare il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano e Alburni. Si tratta della Principessa Primula. Questo è il nome del fumetto, edito da Parco Nazionale e Comicon Edizioni, che, attraverso delle narrazioni, permetterà di conoscere meglio il territorio del parco e le sue peculiarità culturali, paesaggistiche e alimentari. Giovedì 7 dicembre verrà presentato il numero zero della collana, presso la sede dell'Antiparco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano e Alburni, Sita, Vallo della Lucania. Nel corso dell'incontro interverranno Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano e Alburni, Salvatore Ambrosino, presidente dell'Associazione Equinozio e Venti, Paco Desiato, autore del fumetto, e Maria De Biase, dirigente dell'Istituto Comprensivo Santa Marina di Santa Marina. Grazie. 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 Grazie.